una zona a tutti e ben ritrovati sul mio canale io sono monkey di andrea oggi vado a provare a registrare per la terza volta il primo episodio di one piece odyssey per un motivo per un altro dovuto sempre buttare le registrazioni che sempre le prime due che cos'è one piece odyssey nuovo gioco per play 5 su one piece ovviamente un'avventura non si scorda mai un naufragio un'isola leggendaria un mistero da risolvere rivivendo il passato i pirati di cappello di paia vengono sorpresi da una tempesta e naufragano sull'isola di waford ma dopo l'incontro con l'in ea dio capiscono che l'unico modo per andare avanti e tornare indietro nel passato indagando sui segreti e sulla leggenda dell'isola dato che questo primo episodio è una specie di tutorial alcune cose ve le dirò io senza perdere troppo tempo iniziamo ora una nuova avventura e spero sia l'ultima volta che devo iniziarlo da capo la ciuma di cappello di paia si sta avvicinando a waford ecco i cinque astri di saggezza a waford è costruito il respiro divino e ovviamente loro devono far fuori la ciuma di cappello di paglia perché non si possono avvicinare lì dato che c'è robin con loro dovremmo occuparci personalmente e poi parlano di mandare un'altra persona va piega ok inizia con questo filmato con la nave della ciuma di capelli di paglia la sanni in condizioni bruttissime sta addirittura colando a picco fa male vederla ridotta così un po mi ricorda la scena vagamente di quando bruciano la mary allora ecco qui il cappello di paglia di rufi che viene raccolto da una strana tizia che immagino sia l'im quella che vi ha nominato prima mostrandovi il gioco allora qui abbiamo la ciuma non intera che appunto si sveglia su questa spiaggia luffy si accorge subito che non trova il cappello poverino giustamente il suo cappello che è sempre con lui non ce l'ha la sanni sta affondando va bene inizia questa pioggia di cristalli vogliamo dire dire che razza di isola è questa dal cielo cadono enormi pezzi di ghiaccio cosa sta succedendo questo ghiaccio è molto strano un bizzarro bagliore all'interno usop cosa fa o tocca mi pare giustissimo e robin che razza di isola è questa è un'isola un po strana sembra che ci è caduto durante la stana tempesta di ieri questa parte il prima di quello che è successo qua la vedremo dopo la mia non è qui la dobbiamo trovare anche zoro e brook non ci sono però ovviamente come si chiama sanji pensa solo alle donzelle va bene qui succede una cosa singolare questi cristalli scompaiono nel nulla ma va bene iniziano a chiamarne a gran voce isola misteriosa su queste bestie strane va bene sì 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 ci sono loro che li chiamano a gran voce voglio dire sulla spiaggia è libera lo vedi che non c'è nessuno alla scoperta dell'isola cerca la ciurma va bene allora è già la terza volta che lo faccio ve lo dico già lì sull'isolotto non c'è niente non c'è niente neanche qua intorno qui ti fa vedere se vai e clicchi con il cerchio vabbè gli obiettivi della storia sono indicati nell'angolo in alto a destra dello schermo sono elencate anche nel menu principale controlla quelle zone se non sai come procedere le missioni che consentono di avanzare nella storia sono indicate da un'icona rossa gli obiettivi sono contraddistinti dal simbolo punto esclamativo mentre le informazioni da un fumetto rosso personaggi con un'icona sopra la testa forniscono suggerimenti sull'avventura quelli con un'icona rossa possono aiutarti a procedere nella storia principale ricorda di parlargli appena possibile va bene quindi se volete esplorare dovete a volte evitare le icone rosse allora come vi dicevo qua se andate e cliccate azione col cerchio vi fa vedere cose in questo caso sembra una specie di pietra come se fosse un pony griff ma non scritto un pony griff quindi se andate lì guarda magari la sanni cose se volete farlo voi bene io vi dico non troverete nessun oggetto da raccogliere quindi andiamo a recuperare i membri della ciurma ecco qui usop dove sono finiti tutti la strada è bloccata dai massi ma quella non è l'ancora della sanni sì va bene sentono le urla di un monstro andiamo a vedere ok usop si è unito al gruppo andiamo a parlare con frankie facciamo unire anche lui dobbiamo anche procurarci dei materiali per la sanni giustamente vengo con voi rufi benissimo bravo frankie continuiamo di qua ripeto non c'è nulla da trovare in questo momento se dobbiamo giusto andare dai membri della ciurma non li ho visti qui in giro risido cenami stiamo arrivando sanji si è unito al gruppo prendiamo ancora robin e poi chopper la corrente non l'ha portati qui spero non siano finiti a branderli molto ottimista come sempre robin ok altri fulmini nonostante in cielo non ci siano grosse nuvole brutte che strano fenomeno cosa potrà significare abbassati la zip e spiegaci la tua teoria robin ti ascoltiamo tutti quanti la priorità è trovare gli altri andiamo luffy va bene allora se schiacciamo col pad possiamo vedere intanto i membri della ciurma che si sono uniti fino ad ora i principali sono 4 e poi si aggiungono gli altri tra l'altro ho notato che non c'è gym allora parliamo con chopper andiamo avanti con la storia molto easy sento l'odore dinamico intorno si dai va bene dai dobbiamo semplicemente entrare dentro questa caverna mi fa molto impazzire il movimento di luffy come corre secondo me si sono più incentrati su un altro ti un altro aspetto dato che ai combattimenti a turni si sono fissati più su quello sulla modalità di combattimento e quindi le scene tutto che non l'esplorazione allora andiamo su quest'icona che palesemente una cosa di salvataggio io l'ho già visto ma l'avevo capito già la prima volta che cos'è luccica mi piace wow bello è un'incisione piuttosto elaborata questo stile non è affatto comune molto interessante allora no non ho voglia di fare tutte le vocine perché i personaggi sono veramente troppi l'ho fatto in pirate warrior 4 più volte ma qui non ho voglia i punti di salvataggio permettono di registrare i progressi e ripristinare i pv punti vita se l'intera ciurma finisce k o ripartirai dall'ultimo punto di salvataggio raggiunto salva regolarmente nel corso della storia ok poi vi giuro a me i combattimenti a turni mi piacciono un sacco mi sono sempre piaciuti giochi come i pokemon o final fantasy dragon quest e queste cose così le ho sempre adorate va bene siamo arrivati nel giardino di king kong e finalmente troviamo ah non ancora c'è un albero molto maestoso ci fa vedere l'ambiente circostante sembra delle rovine dei trichecchi molto strani che se chiudono la bocca si ammazzano da soli ma vedi e troviamo king kong a quanto pare con nami presto nami in pericolo vorremmo aiutarne ruffi alla scoperta dell'isola salva nami dall'animale allora sì è un gioco quello che volete ma con le abilità che hanno sia ruffi che sanji ci arrivano di là senza dover fare il giro dell'oca ma vabbè non fa niente allora qui si usa e le due per mirare e le due per correre lunghe distanze con gom gom razzo quest'ultimo consente anche di superare le zone all'apparenza invalicabili in questi casi guardate intorno alla cerca di un appiglio va bene facciamo semplicemente e andiamo avanti ok ancora non ci sono gli oggetti luccicanti per terra quindi semplicemente proseguiamo ci sono tutte le lentie se volete vedere che cosa dicono ma parlando di quegli oggetti lì sul fondo non si capisce bene cosa siano sinceramente sono tipo delle navicelle spaziali no non lo so si questo qui l'abbiamo vista già là va bene ok qui iniziamo a incontrare per terra diversi oggetti utili e di qualcosa che luccica raccoglielo con cerchio i barili i vasi e le casse che luccicano possono essere distrutti rompili per ottenere gli oggetti presenti al loro interno allora va bene ho scoperto che con R3 in realtà spacca e raccoglie a distanza bellissimo bellissimo del pepe blu castagna velenosa va bene qui vi faccio leggere questo discorso ehi c'è una specie di statua è un reperto antico ma ha qualcosa di strano cosa ti insospettisce Robin mi ricorda una reliquia che avevo visto nell'upper yard ma alcuni dettagli sono diversi l'upper yard era la parte dove c'era la terra skypea il pezzo di isola che era salito sopra l'upper yard ti riferisce all'isola del cielo cosa ci fa qua giù un suo reperto era una reliquia di giaia che avevo visto su quell'isola del cielo proveniva dal grande mare blu momento Robin sono capito cosa stai dicendo qui ho vissuto qualcuno che ha avuto a che fare sia con giaia che con l'isola del cielo infatti se avete notato quei pennuti che abbiamo visto all'inizio sembravano molto simili a quelli lì visti su giaia i tucani ok primo combattimento vai siamo pronti adesso per meno nel primo ovviamente ho già sconfitto questi babbi più volte ci sono delle scimiette ci sono tutta una serie di accortezze che vi spiegherò questi tizi sono amici del gorilla togliamoli di mezzo ok allora attacco normale le battaglie si svolgono in aree separate la tucciurma potrebbe essere collocata nella stessa area dei nemici o in un'altra attacchiamo attacchiamo ovviamente il nemico lo spiegheremo dopo che ha la barra caricata perché sarà il prossimo dei loro ad attaccare quindi attacchiamo e l'ammazziamo ok attacchiamo questo qui e attacchiamo con un usop e isa usa punti tensione per eseguire potenti abilità puoi recuperare pt attaccando i nemici o all'inizio delle battaglie i pt acquisiti in un combattimento non sono trasferiti al combattimento successivo quindi qua vi dice usateli i punti tensione non accumulateli per dopo l'indicatore posto intorno all'icona dei nemici segna il loro ordine di azione quello che vi dicevo prima quando è illuminato significa che quel nemico sta per agire bene va bene non ci ho fatto niente faccia di serpente no dai scherzo va bene facciamolo fuori sto qua non possiamo usare ancora abilità quindi useremo un attacco normale che non lo ammazza e Sanji invece si fatto adesso vi spiegherò anche come attaccare al meglio questi personaggi denaro 1.800 esperienza 24.000 va bene proseguiamo semplicemente non c'è niente di che da fare in questo momento è proprio dovete andare lì ok un altro attacco dei nemici si si ma io vi giuro adoro questa tipologia di gioco qui ci fa vedere l'uso delle abilità guardate quanto è figo le abilità possono attaccare uno o più bersagli seleziona un'abilità per vedere gli effetti selezioniamo le abilità guardate jet gatling attacco composto da una raffica infinita di pugni oddio infinita adesso non esageriamo vedete attacca più avversari e quindi lo usiamo contro questi qua bellissimo animazioni fantastiche devo dire mi piacciono un sacco 32.000 punti esperienza va bene andiamo avanti proseguiamo prendiamo questa roba salvare Nami alle priorità giustamente Rufy c'ha pure fame se vi mettete a guardare intorno lo dice anche ma Sanji ovviamente vuole prima salvare la sua adorata Nami ma io ve lo dico di qua non provate neanche ad andare che tanto vi bloccano ok combattimento con i pinguini dice che ha solo fame e Usop giustamente si avvicina e viene attaccato con un cretino non è ostile ma sembra davvero affamato dai 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 diamo avanti Usop che si fa sconfiggere da un pinguino è veramente terribile non può muoversi va bene ora inizia già a essere un po' più tattico perché la prima volta che l'ho fatto sono stato sconfitto poi ho capito cosa dovevo fare gruppo di nemici sgombra l'area di Usop prima che Usop finisca a KO sequenze spettacolari in determinate circostanze possono attivarsi delle sequenze spettacolari in alcuni casi questo comporta un incremento dell'attacco e dei danni inflitti dal nemico secondo me qui volevano intendere al nemico però vabbè se nella tua area non sono più presenti avversari puoi attaccare un nemico in un'altra area per raggiungerla va bene abilità allora usiamo un'abilità il concasser su questo poveretto che non sarà il prossimo ad attaccare però dobbiamo far così mamma che bello questo ancora non l'avevo fatto spettacolo veramente uno spettacolo tocca ai pinguini che attaccheranno Usop va bene Usop ha perso i sensi vabbè alcuni attacchi nemici infliggono alterazioni di stato come sanguinamento o svenimento questi malusti ostacolano in battaglia per esempio causando danni a ogni turno o immobilizzandoti contrastali subito con oggetti o con abilità curative di chopper allora tocca a noi possiamo usare l'abilità per fare di nuovo il jet gutling e attaccare tutti anche se siamo deboli contro questo elemento ma non fa niente iniziamo ad attaccarli non dovrebbe ucciderli ok tocca a lui che ci fa anche un bel danno devo dire allora vediamo un attimo abilità io direi di curare i nostri amici uso per luffi che hanno subito un danno ok fantastico tocca di nuovo a loro ma stavolta appunto abbiamo curato luffi ok proviamo di nuovo a fare un gong gong gutling e vediamo se riusciamo a buttarli giù preciso abbiamo salvato uso e non siamo morti neanche noi effetto di status curato dai bene sgombra l'area di uso bonus esperienza avuto va bene ci danno 26.000 punti più altri 26.000 punti ok allora andiamo ancora un attimo avanti sento l'otore di Nami la strada giusta avrà scurreggiato voglio dire è una bella scalata Nami da su forza cioè dai queste cose però no nel senso figuriamoci se si preoccupano di riuscire a salire sapere una roba del genere vabbè che uso però se c'è la freccia non dovrebbe salire da solo vabbè l'altra volta me l'ha fatto giuro saliamo così prendiamo sta roba e andiamo avanti alla mela energetica va bene qui vi fa vedere la famiglia di trichechi poco importe in realtà non c'è niente di che da fare ma ve lo dico perché ci ho già provato io se poi volete provare pure voi per una cosa vostra liberi di farlo ovviamente noi saliamo e vicina non provate ad andare di qua tanto vi bloccano non potete andare di là per adesso allora proseguiamo stai alla larga ti assicuro che non sono gustosa continuiamo andiamo verso il gorilla e la nostra adorata nami filmatino rufi quello è nami grazie ciò perché ci hai detto che quello è nami non l'avevamo visto va bene va bene va bene veniamo attaccati di nuovo dai suoi seguaci probabilmente davanti e dietro sposta di scimmia oh anche qui dai 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 invece di minacciare picchiamogli e basta queste scimmie allora qui iniziano i diversi tipi tipi di attacco e la loro efficacia tecnica batte potenza potenza batte velocità velocità batte tecnica gli attacchi normali sono suddivisi per tipologia in potenza velocità e tecnica l'efficacia di ognuno varia in base alla situazione influenzando i danni inflitti danno superiore se la freccia verso l'alto danno inferiore se la freccia verso il basso puoi verificare l'efficacia di l'icona del nemico in basso a sinistra premi triangolo per sostituire i membri della ciurma seleziona combattimenti efficaci contro il tipo di nemico che devi affrontare va bene ok allora attacco in questo momento noi per la tecnica dobbiamo usare la velocità quindi sostituisci il membro della ciurma per velocità si intende questi arancioni secondo me hanno usato delle icone un po' strane però va bene così vedete adesso le frecce sono verso l'alto bam ammazzato fortissimo pure tocca a loro scusate ho dovuto attaccare le cuffie perché si stavano scaricando allora luffy attacco normale contro eisa o oisa contro oisa è forte quindi attacchiamo lui seccato allora usop se attacca lui è debole perché quella è potenza per potenza serve la tecnica quindi sostituisci il membro della ciurma ok con robin in realtà non mi posso sostituire quindi va bene proviamo a usare un'abilità proviamo a usare una stella di fumo che infligge incantamento non so cosa sia ma noi proviamo a usarlo vediamo se riusciamo a non farlo attaccare allora robin dovrebbe attaccare questo qui di potenza però il prossimo ad attaccare sarà poi quello contro luffy vabbè attacchiamo allora questo qua ammazzato sconfitto alle allucinazioni all'attacco lo fa comunque non mi frega niente povera la nostra robin allora attacco tecnica contro tecnica vediamo se abbiamo qualcuno no niente robin mi spiace devi attaccare normalmente sti becille e il prossimo attacco sarà il suo mi hai fatto male io te lo dico l'attacco normale anzi abilità gom gom bullet voglio seccarlo così questo qua ma che bello uno degli attacchi più belli di luffy il bullet secondo me allora va bene vi faccio vedere una nuova tecnica di usop stella fiammeggiante non so perché mi dica che è debole sincero ma abbiamo ammazzato direi sconfitto va bene 80.000 punti esperienza in più ci da anche oggetti ogni tanto saliamo di livello va bene va bene Nami continua a gridare poverina anche avrà anche freddo in questo momento Nami chi arriva il nostro buon zoro zoro ehi ci siete tutti no manca brook infatti dopo essersi perso testa dalga è tornato giustamente loro due si devono battibeccare se no non sono loro due mi piace che abbiano mantenuto questa cosa allora andiamo allo scontro finale contro sto scimione ci siamo poche parole tanti fatti dobbiamo ammazzare questi imbecilli in realtà aiutare Nami grazie l'apprezzo molto cura Nami di almeno 25% dei pv allora oggetti apri la schermata oggetti per usare quelli presenti nel tuo inventario oltre a ripristinare punti vite punti tensione mi pare garantiscono diversi effetti oggetti usiamo una mena energetica vigorosa dato che è molto messa male Nami ok curata difese coraggio incrementati per Nami va bene che cavolo è sta roba non l'avevo ancora vista non ci ha fatto niente per carità però non l'avevo ancora vista quando giunge il turno la tua ciuma usa L1 R1 per scegliere chi far agire per primo stabilisci l'ordine di intervento in base a quello dei nemici allora il prossimo che attaccherà sarà questo qui contro Luffy quindi io mi posso spostare va bene allora dobbiamo attaccare uno con tecnica quindi dovremmo usare uno che usa la velocità vediamo ok possiamo usare o uso più franchi io direi di usare franchi al posto di Luffy vai sostituisci e possiamo usare un'abilità vediamo weapons left coup d'avent bellissimo io direi di usare questo che attacca tutti e non l'ho ancora visto fantastico fantastico ora mi sento super carico se cambiavano anche i capelli era fantastico inizia con i nemici dall'indicatore pieno seleziona compagni del tipo più efficace usabilità adatte a bersagli singoli o multipli il prossimo che attacca è quello di Nami che lei è velocità vediamo un attimo c'è un attacco multiplo anche lei pugno della felicità voglio provare questo dovrebbe attaccarli tutti oh che figo come bersaglio mancato ok questa non me l'aspettavo va bene va bene va bene allora Nico Robin Nico Robin è forte contro Eiza questo qua però 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 voglio usare un'abilità però cavolo non riesco a capire se c'è solo nella mia area questi qua giusto quindi se faccio del film dovrebbe colpirli tutti vediamo se li manca come è successo prima direi di no direi di no sconfitto Eiza allora tocca King Kong che attacca il nostro Sanji sto maledetto allora vediamo un po' abilità non voglio usare questo così attacco sia lo scimmione che il tizio in te dovrebbe venire sconfitto benissimo non che abbiamo fatto chissà che danno lo scimmione però però usiamo un attacco normale per ammazzare questo qui molto easy ok allora scusate lui è potenza quindi ci va un tipo di tecnica tecnica usiamo il nostro Zoro voglio vedere abilità lo shish sun sun dai cavolo voglio vedere già solo per l'animazione voglio vederlo guardate che bello bellissimo è l'attacco che ha usato contro Kuma cioè non solo contro Kuma però anche contro Kuma bellissimo bellissimo no Sanji ha perso i sensi che due scatola usare un'abilità questo bellissimo usato anche l'altra volta ho 100 bellissimo bellissimo e ha fatto anche malissimo questo poveraccio allora tocca di nuovo Zoro usiamo le 108 passione di demonia che ma che bello ragazzi che bello che bello è veramente figo che tocca a lui fortunatamente non fa chissà quanto male diciamo che se fa perdere a tutti i sensi potrebbe essere un problema allora dobbiamo usare uno di tecnica però mi sa che li ho finiti cioè nel senso sono Robin e Zoro ma sono già in campo e non posso sostituirli quindi no però aspettate fermi schiaccio R1 ok mi fa usare posso usare di nuovo Robin? e direi di seccarlo di nuovo con questo attacco che è stato molto efficace però vedete c'è tutto un ragionamento dietro da fare ovviamente per attaccare non è un picchio e basta la torta è il cocco banana 66.000 punti sono un po' pochi a 66.000 punti prima ce ne hanno dati 80.000 per non aumentare una cosa ok salgono di livello alcuni e andiamo Nami fortuna che stai bene sono venuto a salvarti sì grazie va bene dai la funzione accelerazione di battaglia è stata sbloccata wow una montagna di rottali la dimensione la consistenza è perfetto per aggiustare la nave ma non è vero la nave se si sono rotte le parti in legno se non hai l'Adam che è il legno con cui c'è l'albero con cui ha fatto questo legno potremmo trovare legno per la nave anche in altre zone dell'isola va bene dobbiamo iniziare ad esplorare e di Brooke non se ne preoccupa nessuno ma comunque Luffy cerca il suo cappello giustamente non abbiamo ancora trovato Brooke dove potrebbe essere grazie Usop io ho eccomi qui nella sua versione di quando esce dal corpo corpo dalle ossa e adesso se non sbaglio dovrebbe mettere la scena di quello che è successo il giorno prima tra l'altro hanno fatto delle animazioni bellissime a giudicare dalla marea l'acqua deve essere piuttosto profonda non riusciamo mai a raggiungere il fondale finché non sistemiamo la Sunny e lo Shark Submerge 3 inizieremo la ricerca una volta riparata la Sunny molte grazie ok ecco quella che forse l'ho detto prima dovrebbe essere l'In addios non è ancora spuntato non sono pirati vero e invece si così inizia l'avventura di Rufy e dei suoi amici tutto era cominciato il giorno prima la loro nave la Thousand Sunny stava solcando placidamente i mari verso l'isola misteriosa guardate quell'isola piena di tori enormi cos'è quella luce che sale verso il cielo ovviamente lui voleva andarci sembra divertente andiamo aspetta Rufy si stanno avvicinando tutta la velocità dei cumuli non ho letto ok la Knock Up Stream quella che le ha spediti su Skype effettivamente cos'è quella roba non l'ho ancora capito good the best bellissimo mi piace un sacco questo modo di fare animazioni Ranky Nami Chopper Tony Tony Chopper Brook Usopp Nico Robin Rorono Azzoro Sanji di cui non hanno messo il cognome cioè il Dream Smoke ed il Capitano Monkey di Rufy sono arrivati proprio impicchiata sul mare ecco addios ciò si chiama addio e basta One Piece Odyssey e così quell'uomo ha raggiunto l'isola e così ora deve sbrigarsi all'unico Robin con loro chissà di chi parlano non mi sono fatto spoiler di nessun genere quindi capitolo 1 isola delle tempeste quasi ti dimenticavo Rufy ho visto una ragazza con il tuo cappello davvero Nami proprio su questa spiaggia dove siamo naufragati ma subito dopo sono stato afferrato da quel gorilla non vedete dove sei andata sarà ancora sull'isola grazie andrò a cercarla va bene va bene va bene direi che il tutorial è finito alla scoperta dell'isola trovo il cappello di paglia ora immagino si possa appunto esplorare un po' di più per andare a cercare cose che prima non potevamo andare a cercare va bene io spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un grande like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui video che usciranno fatemi sapere se volete che io continui questa serie se no me lo giocherò da solo e fatemelo sapere appunto con un like mi raccomando iscrivetevi alle mie pagine social che lascio qua sotto in descrizione troverete tutti i link e basta io ringrazio tutti coloro che sono arrivati fino alla fine del video e noi ci vediamo alla prossima ciao